La Polonia prevede di chiedere l'estradizione per Michael Karkuz, pensionato del Minnesota, sospettato da un magistrato polacco di essere l'ex comandante di un'unità nazista coinvolto nella morte di 44 polacchi. I pubblici ministeri sono sicuri al 100% della sua identità e hanno chiesto alla tribunale regionale di Lublino di emettere un mandato di arresto. Mettere insieme le prove necessarie per incriminare qualcuno di genocidio è sempre un grande successo. Questo caso dimostra che questa possibilità esiste ancora. Non bisogna mai fermarsi di perseguire i crimini fino a quando esiste anche la minima possibilità che giustizia sia fatta. È stata l'Associated Press a scoprire nel giugno 2013 il passato da comandante delle SS ucraine di Michael Karkuz. La Polonia ha aperto un'inchiesta. L'uomo non è mai comparso davanti ai magistrati per motivi di salute. Non può essere considerata una prova il file di un interrogatorio del KGB del 1968 di dubbia provenienza consegnato all'Associated Press, dice il figlio. Nel 1949 l'uomo, oggi 98enne, emigrò in America con i suoi due figli. Nel 1959 divenne cittadino naturalizzato americano. Grazie. Grazie. Grazie.